Scritti l'onorevole Kavas per due minuti. Sajnos két hét elváltével sem ismertek... Drágon. Sajnosi, Madame Chair. Sajnosi, something absolutely unprecedented happened in this hemicycle today. As my colleague was talking about a major tragedy in our country, as a result of which nine people died, two representatives were laughing provocatively. This is a formal complaint which I would like to raise with the Presidency, with you, Madame Chair, and please forward it to Mr. Buzek. I want this case to be properly investigated. Mr. Nigel Farage did something which was far less provocative and offensive. He was fined and he had to go through disciplinary action. These two women over here, these two representatives deserve at least that much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. mi dovolte, pani predseda, veľmi krátko vysvetliť kolegyni Morvaj, che la mia reazione non spostava in Madiarsca, non è stato in parlamente, perché sono a vissmiela a le persone che trpiano. La mia reazione è stato un pochino di viaggiato di vostro collega, che spostava in Madiarsca, che spostava in Madiarsca, con la sua storia, che si stava in Madiarsca con la lingua in Slovano. Pani collega, posso garantire, che anche la nuova governo, che è anche la maggiarska strana HIT, non ha cambiato la lingua in grado e la lingua in grado in grado. Spare la morte e la lingua in grado in Madiarsca con la lingua in grado in Slovano è assolutamente noncompetentante. Grazie. Praga. I know it's a little bit late, but I will speak in Slovak. Chcem viadriť osobné, osobný personal statement ku tomu, čo povedala pani Morvaj. Mám tri veci, ktoré chcem povedať. Prvá je, že pani Morvaj ste to vy, kto sa tu vkusare hoce v tejto snemovni na tom, čo ostatní kolegovia hovoria. Druhá vec, je veľmi úbohé z niečo takého, ako je katastrofa, ktorá sa udela v Maďarsku vytlkať politický kapitál a prirovnávať kto k niečomu, čo absolutne s tím nesuvisi. A tretia vec je, že naozaj si myslíte, že od ľudí, ktorí sa tu prechádzajú v gardistických uniformách v tejto snemovni je niečo, čo povedia vôbec relevantné. Ďakujem a veľmi pekne.